L'Italia della palla nuoto si ribella dopo il controverso match agli ottavi di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 contro l'Ungheria. Nonostante i ricorsi presentati, la Federazione Internazionale ha rifiutato di annullare l'incontro. L'Italia, eliminata ai rigori in una gara polemica, ha scelto di esprimere la propria indignazione in modo forte e simbolico. Durante l'incontro successivo con la Spagna, gli azzurri hanno voltato le spalle durante l'inno nazionale. Francesco Condemi, al centro del contenzioso arbitrale, è stato fatto uscire dal campo tramite un time-out strategico all'inizio della partita contro la Spagna. La squadra ha poi giocato per quattro minuti con soli sei giocatori. Questo gesto simbolico intendeva richiamare l'inferiorità numerica ingiustamente subita contro l'Ungheria. Gli azzurri hanno voluto dimostrare al mondo intero il loro disappunto per l'eliminazione subita. L'arbitro Miskovic ha ammesso l'errore che ha portato all'ingiusta squalifica di Francesco Condemi. Tuttavia, la federazione internazionale ha respinto i ricorsi per rigiocare la partita, rifiutando di annullare l'incontro. La protesta degli azzurri è stata potente e carica di significato, un chiaro segnale all'intero mondo sportivo. L'Italia ha voluto far sentire la propria voce contro le ingiustizie subite. Gli azzurri, guidati dal Citi Sandro Campagna, hanno dimostrato di non accettare passivamente il trattamento ricevuto. Il loro gesto durante l'inno nazionale è stato un atto di ribellione. Il mondo dello sport ha assistito a un atto di coraggio e determinazione da parte della squadra italiana di pallanuoto. La loro protesta è un richiamo alla giustizia e all'equità nelle competizioni. L'Italia, nonostante l'eliminazione, ha voluto lasciare un segno indelebile. La loro protesta durante le Olimpiadi di Parigi 2024 rimarrà nella storia come un esempio di lotta contro le ingiustizie.